I potenti di tutto il mondo a forza di bombardare con il nucleare distruggono tutto. Tra le macerie, la terra distrutta al silenzio, la devastazione. Da sotto le lamiere si alza un gorilla di due metri e mezzo che guarda in giro tutto solo, triste. A un certo punto in lontananza vede il puntino che si avvicina verso di lui. Un gorilla femmina di due metri e mezzo, appena si vedono, si abbracciano. La gorilla femmina mette una mano in mezzo al pelo, tira fuori una mela e gliela mostra al gorilla. Gorilla guarda e fa, ricominciamo un'altra volta.